Cari fratelli e sorelle, quante volte in mezzo alle difficoltà della vita, anche noi, abbiamo gridato con Isaia Signore, se tu squarciassi i cieli e scintessi Ebbene sì, la regina di Gigli con il suo messaggio di purezza ci ricorda che cos'è che permette a Dio di squarciare i cieli e scinti La purezza infatti ti offre la stupenda possibilità di sperimentare, per così dire, da vivo, nel tuo cuore la presenza di Dio e il potere più grande del suo amore Grazie